Come si può fermare il percorso naturale delle cose, il progresso della natura? La natura è la natura che si ferma quando arriva il momento, decide per lei, per la vita, per proteggersi, noi per proteggerci creiamo. Per proteggerci da lei, la natura violenta nella sua bellezza. Poi qualcosa si spezza tra l'uomo e la natura. Il miracolo, forse l'amore, o comunque qualcosa che sta nella violenza della natura, del genere umano. La natura del genere umano che crea e ricrea. Ricercando se stesso la conoscenza, il potere della conoscenza. O forse, forse sono solo io che mi spezzo. E molto sta nel potere di poter ricreare. Il potere di poter ricreare il piacere. Ricreare il piacere piuttosto che generarlo e poi, viziati, accumularlo. Per cosa poi, il potere, la violenza, senza bellezza, può davvero l'essere umano creare? Può davvero l'essere umano generare? Questa è una domanda importante. Poi una notte, una delle nostre notti che si avvicinano sempre di più all'alba, sulla soglia del balcone fumando una sigaretta. Si è girato verso di me e mi ha chiesto, secondo te cosa manca all'uomo per essere felice? Lo guardavo nella penombra della stanza, straiato sul letto. Anche io volevo un tiro di quella sigaretta, ma la domanda mi lasciò esanime nella sua bellezza. fu la notte prima di trovare la piuma di pavone, la notte prima di accompagnarlo in stazione e vedere il suo volto oscurarsi di malinconia. Non essere triste, per favore, l'ho detto. E dentro di me pensavo, non essere triste. Qualunque cosa manchi all'uomo per essere felice, noi ce l'abbiamo. E quindi dobbiamo sorridere. Sì. Delle volte. Sorridere. Diventa un dovere. Nei confronti del mondo. Della natura. Di quella violenta bellezza. Di quella violenta bellezza. Della natura. Della natura. Allora. Della natura. Della natura. E' di quella natura. Della natura.